Musica Eccoci qua, buonasera a tutti, bentornati, ben ritrovati, nuova stagione, la stagione 2024 del processo a Gran Premio, una grande gioia essere di nuovo con voi per un'altra stagione di Formula 1, Formula 1 che ha preso via proprio in questo weekend. Sabato a Shakir nel Gran Premio del Barenne è arrivata la prima vittoria per Max Verstappen, la sua 55esima in carriera ha conquistato e ha dominato con pole position, giro veloce e Gran Premio, tutto ovviamente nel segno della solita Red Bull che fa doppietta. Seconda posizione, lo vedete nella foto, per Sergio Perez e poi le due Ferrari, terzo un magistrale Carlo Sainz, quarto Leclerc che gestisce per tutto il Gran Premio un problema ai freni. A chiudere le prime cinque posizioni è George Russell con la Mercedes, ma andiamo a dare uno sguardo a questa prima classifica piloti che poi l'ordine d'arrivo dei primi dieci che vanno a punti, mentre per quanto riguarda la classifica costruttori Red Bull insomma prende già un piccolo vantaggio sugli inseguitori a 44. Andiamo a dare il benvenuto ai nostri ospiti e come di consueto è qui con noi, ne siamo molto felici, che bello rivederti, il direttore di motorsport.com Franco Nunez. Ciao Franco. Ciao Veroneika, piacere di rivederti, buona stagione a tutti quanti. Com'è andato questo inverno? Impegnativo, un inverno che ha creato altissime attese e che la prima gara ha un po' sgonfiato, ma non credo che quello che abbiamo visto in Bahrain in realtà sia la fotografia vera di questa formula. Speriamo di non essere davanti a un 2023 bis e tra l'altro siamo qui soli e soletti perché dovevano esserci con noi due piloti, poi ovviamente fanno il loro mestiere, quindi tornare dalle piste non è stato possibile. Diamo quindi il benvenuto al primo pilota collegato, ex pilota di Formula 1 Andrea Montermini, ciao Andrea, bentornato. Ciao ragazzi, ciao a tutti e come dice giustamente Franco, buona stagione a tutti. Buona stagione, tu Andrea sei via con ACI Sport, da che parte d'Italia ti trovi? Mi trovo in questo momento ad Arezzo, stamattina abbiamo avuto 400 ragazzi a Perugia e domani ne avremo 500 ad Arezzo, sempre il programma Sala 6 Factor che è un programma che ormai va avanti da 18 anni ed è con grande onore, e ho l'onore e la fortuna di poter avere questo incarico da parte di ACI e del governo di questa cosa perché mi dà tantissima soddisfazione lavorare con questi ragazzi. Un progetto molto importante che riguarda la sicurezza, quindi sono sempre investimenti mirati che fanno bene alla società. Grazie Andrea, l'altro pilota è un punto fermo per il processo al Gran Premio, noi tante volte abbiamo dato per scontato quanto lui sia stato ed è tuttora bravo nelle corse. Tanti anni spesi nel correre e dove ha corso ha sempre vinto. Qualche dato, campione canadese di Formula 2000, campione italiano ed europeo Formula Gloria, campione europeo Endurance GTS, vice campione australiano Formula 3000, campione Endurance di prototipi, tre test con tre scuderie differenti in Formula 1, la GS, la Larousse e la Benetton e poi detiene due record che sono di grande prestigio, ossia è stato il primo pilota italiano con un team italiano ad andare a podio nel 2013 nella Nascar sugli ovali, ma è anche l'unico pilota italiano ad aver conquistato una vittoria appunto nella Nascar sugli ovali americani nel 2018. Manca solo il nome, ma abbiamo già finito il tempo a nostra disposizione, ecco noi Davide Amaduzzi, ciao Davide! Ciao Veronica, ciao a tutti, adesso dopo questa presentazione posso andare via, basta. No, anche tu sei via, sei via per dei test, ma dovresti tornare, o no? Dovrei tornare alla fine di questa settimana, sì sì, dovrei tornare alla fine di questa settimana. Bene, tutto bene l'inverno anche per te? Tutto bene, è un inverno relativamente tranquillo. Grazie Davide, allora andiamo da l'ideatore, conduttore del podcast Full Gas, con noi Fabrizio Monaco, ciao Fabrizio! Ciao Veronique, buonasera a tutti, bentrovati, è un piacere essere qui di nuovo e buona stagione a tutti. Ma se io ti faccio così, dieci, che cosa ti viene in mente? Che il podcast è tra i dieci podcast più ascoltati sulla piattaforma Spotify, è giusto? Abbiamo raggiunto un bel risultato, siamo in top ten su Apple Podcast. Ah, ecco il podcast, ah ecco, perfetto, quindi, perfetto, complimenti Fabrizio. Allora, ci sono tante novità, iniziamo subito a parlare di Formula 1, tante novità, sia di Cronaca, che può essere il caso Orner, o anche quello che in questo momento riguarda il presidente della FIA, della Federazione Internazionale, Ben Sul-IAM, ma andiamo a parlare prima di pista. Ovviamente parleremo di chi ha vinto, di questa Super Red Bull, una macchina completamente nuova che continua a vincere. Ci soffermiamo al momento sulla Ferrari, una Ferrari che sapevamo che andava forte sul giro secolo, e lo era tutto il 2023, anche quest'anno lo abbiamo visto con Schalke nel Q2, fosse stato nel Q3, avrebbe conquistato la pole position con il tempo migliore, ma quello che noi vogliamo analizzare è la consistenza in gara. Io, Franco, ti chiedo subito se sono stati fatti dei miglioramenti, dei passi avanti, e che cosa di positivo ci possiamo portare a casa dopo questo primo Gran Premio. Ma guarda, vero Nick, io sono convinto che la Ferrari il salto lo abbia fatto e sia un salto importante. Io la SF24 l'ho definita una macchina consistente, nella consapevolezza che con quella parola si può definire un qualche cosa che può ambire a ottenere qualcosa di sostanzioso e importante. Parlare di vittoria contro Max Verstappen dopo la prima gara sembra un insulto e non mi azzardo a farlo, almeno all'inizio. Però ti devo dire la verità, la macchina che ho visto nei test, nei tre giorni di test, era una macchina in grado, nei long grandi gara, di non patire troppo l'usura delle gomme, e anzi di saper sfruttare bene in certe condizioni quelle che sono gli pneumatici che la Pirelli ha confermato rispetto all'anno scorso. Che dire, la Red Bull probabilmente ha qualche problemino di gioventù legato a questo nuovo sistema di raffreddamento straordinario. Ci sono quattro bocche di radiatori e quattro sfoghi che sono completamente autonomi rispetto a quello che abbiamo visto in passato. È un nuovo modo di affrontare il layout di una monoposto di Formula 1. Probabilmente è una macchina anche modulare, nel senso che al variare dei circuiti possono aumentare di più una certa struttura di raffreddamento rispetto a un'altra, che può dare grandissimi vantaggi. Nei test avevano avuto qualche problema di temperatura. Noi giornalisti pensavamo che si volessero nascondere, cercando di fare ogni run cambiando gomme con la stessa benzina, e quindi mettere ancora più paura. Si è poi saputo in realtà che loro il quarto d'ora e venti minuti di stop serviva a ridurre le temperature che avevano. Debuti in Gran Premio e in Bahrain ci sono 18 gradi. Esatto, hanno avuto anche fortuna. Assolutamente sì. Poteva essere molto più caldo. Assolutamente sì. Grazie Franco, io Andrea vengo da te e continuiamo a parlare di Ferrari. Insomma, le illusioni di poter stare davanti a un team che nella passata stagione aveva vinto 21 gare su 22, ovviamente non potevano esserci. Come è sembrata a te la Ferrari in questo weekend? Sicuramente consistente. Diciamo che c'è un campanello d'allarme con il fatto che in Q2 hanno fatto un tempo e nel Q3 non sono riusciti a ripeterlo, nonostante avessero delle cose molto buone. Ma dal Q2 al Q3 sono cambiate delle temperature, sono cambiate alcune situazioni. Come avete detto, in Bahrain è stato molto freddo questo weekend. Qualcosa non è ancora stato compreso perfettamente, probabilmente. perché se tutti e due i piloti non sono riusciti a migliorare i loro tempi che avevano fatto nel Q2, evidentemente c'è qualche cosa ancora che deve essere guadagnato. Quello che a me ha lasciato un po' sicuramente un po' basito è rivedere quella differenza sicuramente con gomme diverse, con una strategia diversa. Questo è fuori discussione da parte di Red Bull. Però la distanza ancora in alcune situazioni l'abbiamo vista, ma questo credo sia stato così per tutti. E qui però c'è una consapevolezza, l'hanno detto, l'hanno dichiarato. Pensano tutti che le cose possono migliorare, sanno che hanno una macchina che potrà essere più possibilmente sviluppata e più non abbia già dei limiti già pronti via alla prima gara. Mentre invece l'anno scorso questo ce l'avevano, chiaramente l'avevano già visto subito nel primo test, non solo nella prima gara. Sì esatto, l'approccio è differente da qui al proseguire della stagione. Franco tu volevi intervenire su una cosa. Sì, su una cosa che ha detto Andrea, è vero il distacco è stato pesante nel misurare il distacco fra Max e Carlos Sainz. Io sono dell'idea che però senza il problema ai freni che ha colpito Leclerc, avremmo visto una Ferrari che poteva lottare, anzi, io credo conquistare il secondo posto e sulla base di un secondo quarto che sarebbe stato poi il risultato finale, la lettura che avremmo dato tutti sarebbe stata completamente diversa. Certo, grazie Franco. Davide, a proposito di questo problema che aveva la macchina di Leclerc, intanto ti chiedo se possiamo ipotizzare quale sia stata l'origine di questo problema. Poi non è stato bello che pronti al via sia stata la Ferrari ad avere un problema. Già mi sembra che anche l'anno scorso in Bareine abbia avuto un problema, che ha costretto poi sempre Leclerc al ritiro, in una pista dove comunque la frenata è gran parte della prestazione, portarla al termine. Lui ha fatto una grandissima gara nel riuscire ad arrivare fino alla fine e anche sfruttare l'errore di Russell, quindi arrivare quarto. Però rimane il rammarico che la Ferrari ha avuto un problema. Sì, beh, il problema sembra o un sensore o qualcosa di simile e francamente poteva succedere a chiunque altro, poteva anche succedere alla macchina di Sainz. No, no, non dico tra Leclerc e Sainz, dico proprio peccato che sia stata la Ferrari, cioè tra 20 macchine. Certo, ma per noi è sempre un peccato, però voglio dire, le macchine da corsa sono fatte così, hanno tanti particolari, ogni tanto qualcosa si guasta. E in alcuni casi ogni tanto un particolare viene montato nuovo e il nuovo non funziona. Cioè è veramente molto complesso come discorso. A me non piace parlare di fortuna o sfortuna. Le corse sono così, sono sempre state così. La Ferrari comunque ha dimostrato di essere nettamente la seconda forza, poi altre squadre hanno detto che hanno avuto altri problemi, quindi vedremo nei prossimi Gran Premi. Leclerc ha fatto un lavoro bellissimo sicuramente nel gestire il problema, perché comunque si può gestire un problema. Lui aveva una temperatura maggiore di un disco o freno rispetto all'altro, una si bloccava, l'altra non si bloccava, e quindi non poteva fare la staccata. Ma non era solo quello il problema, il problema poi nasceva successivamente, che non facendo la staccata giusta, arrivava lungo, perdeva il punto di corda, arrivava largo e perdeva ancora lungo. Non è da poco, non ho parlato di fortuna o sfortuna, è un peccato nel senso a livello tecnico, cioè comunque un team deve essere al 100%, guarda caso è la Ferrari che è partita, pronti via, ha avuto lei il problema. Ma non parlo di sfortuna, parlo che bisognerebbe essere un po' più... Se ti sbagliano lo spurgo dei freni, hai aria da una parte, come diventa guidare una Formula 1? Perché quello è stato il problema. Sì, sì. E quello in un top team di Formula 1 non deve succedere. Quindi è un segnale che mette un po' di allarme, non fosse altro perché vuol dire che non c'è quel clima caricatissimo per evitare che ogni cosa venga controllata 100 volte. E quello mi dispiace perché la Ferrari questi errori non se li merita. E secondo me sintomatica è proprio anche la dichiarazione di Leclerc, cioè il fatto che fosse così deluso, lui sapeva che poteva avere in mano il secondo posto, secondo me. Che il secondo posto fosse di Leclerc era abbastanza evidente. Basta guardare il passo in gara nonostante il problema. Lui è stato molto bravo perché da metà gara in poi è riuscito a gestirlo alla grande, semplicemente facendo quello che, l'unica cosa che poteva fare, frenava un po' prima e frenava meno. E quindi di conseguenza non perdeva più il punto di corda, riusciva lo stesso a perdere, a portare velocità in curva, è chiaro che perdeva qualcosina in ogni frenata, soprattutto quelle super intense. Lui è stato bravissimo, ma si sta parlando di un professionista di super livello, quindi io non sono meravigliato in quello. Ha fatto un gran lavoro, le gare sono così, quest'anno sono 24, sono tantissime. Al posto di un secondo ha fatto un quarto, la macchina è discreta. Il problema, secondo me, non è neanche troppo la macchina, nel senso che il problema è Max Verstappen, perché lui fa la differenza e adesso la sta facendo in maniera spaventosa. Ha sicuramente un missile terraria, però ragazzi, dopo quattro giri aveva cinque secondi di vantaggio. Perez è il solito Perez che porta la macchina al secondo posto, quindi la macchina è sicuramente super, la Red Bull, però il problema della Ferrari in questo momento si chiama Max Verstappen, prima di tutto. e vediamo nelle prossime gare. Io sono abbastanza convinto che il livello che abbiamo visto, il distacco, non sia reale. È un pochino meno, secondo il mio punto di vista. Però vedremo. Fabrizio, allora la tua impressione sull'auto, su quello che hai visto, sulla gara, sulla consistenza della monoposto nel Long Run, nel Gran Premio, e la tua opinione anche sull'Eclerc, su come è riuscita a gestire, sul fatto che comunque la Ferrari deve essere sempre al 100%. Certo, la SF24 si è già dimostrata, secondo me, nettamente superiore, non solo come prestazioni, ma in generale come modularità della macchina rispetto all'SF23, poi gli sviluppi ce lo diranno ulteriormente. È vero che l'Eclerc non è riuscito a ripetere il tempo fatto in Q2, ripeterlo in Q3? Ho cercato di dare un'occhiata alla telemetria, ho visto qualcosa di veramente strano, perché nel rettilineo andava più veloce rispetto che nel Q2, ma non riuscivo a portare la stessa velocità in curva, soprattutto nella seconda metà del giro, è lì dove poi ha perso la pole position. Quindi andrebbe un pochino analizzato, secondo me, quella parte di qualifica. Per la gara sarei stato veramente curioso di vedere il passo, il vero passo di Leclerc, anche perché quello che ci ha fatto vedere Verstappen, e questa è una mia opinione, secondo me ancora è stato molto conservativo. Il tempo di Verstappen l'abbiamo visto quando si è messo in testa di fare il giro veloce. Veloce che ha stampato quell'1,32 dando un secondo e qualcosa rispetto all'1,34 che gli altri, i più veloci degli altri, stavano tenendo. Quindi la domanda che mi faccio è quanto margine ancora ha Verstappen al netto di quei dubbi sulla, chiamiamola, affidabilità relativa alla temperatura, a cui facevo riferimento prima Franco, che vedremo. Questo è stato un gran premio molto freddo, per cui, secondo me, tutto ancora da vedere. Aspettiamo già quello che succederà in Arabia questa settimana. Esatto, non ci sarà neanche tanto da aspettare, perché fra due giorni si torna in pista con le prime prove libere, perché anche questo gran premio, quello di Arabia Saudita, è in programma il sabato. Franco, quindi, il problema di Leclerc, qual è stato? Io penso che ci sia stato un errore umano. Probabilmente nella fase di delibera della macchina, quando è necessario fare lo spurgo dei freni, non è stato fatto a regola d'arte e si è pagato l'errore. Però vorrei provare a dare una risposta anche a cosa ci ha proposto Mr. Full Gas, perché la sensazione, almeno quello che ho capito parlando un po' con i ferraristi, è che a Maranello non sono ancora a posto con la sospensione posteriore, che è completamente nuova, sebbene abbia mantenuto lo schema che aveva l'anno scorso. Ferrari e Haas sono le uniche rimaste in quella direzione, molti critici hanno detto, ecco, c'è una Ferrari che non ha il coraggio di adeguarsi, può darsi, però hanno fatto una sospensione completamente nuova. E i piloti si sono un po' lamentati che al limite arriva un po' all'improvviso una forma di sovrasterzo, cosa che normalmente piace al signor Leclerc, ma quando è quel momento in cui sei impegnato nell'inserire in curva e ti si muove la macchina, ecco che diventa instabile. E quelle instabilità è il problema che devono riuscire a risolvere nel giro secco, cioè quando la macchina è molto impegnata. Abbiamo visto che poi invece in situazione di gara, con più peso di benzina, eccetera, il fenomeno è completamente scomparso. Avevano fatto delle prove al simulatore, prima della gara, dopo i test, perché è una cosa che si stanno un po' tirando dietro, e pensavano di aver risolto. Le regolazioni che hanno fatto non sono state sufficienti, parlano di un braccetto nuovo di sospensione già a Jedda. Quindi probabilmente hanno individuato il problema e probabilmente, spero, per i ferraristi dovrebbero aver trovato una soluzione. Grazie Franco. Andrea, vai, 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 sì. Tra l'altro, a supporto di quello che dice Franco, i numeri proprio parlavano abbastanza chiaro. Il primo settore di Bahrain era quello più problematico per loro, che uno è trazione pura e la curva tre è la curva che fai in trazione, perché è un tornante un pochino più, è una 90 gradi più accentuata, e lì serviva tanta trazione in appoggio, per cui sia in curva uno che in curva tre serviva molto questo appoggio. Lì era chiaro che quei due decimi che venivano persi nei confronti soprattutto di Vestappen e comunque della Red Bull, anche di alcune altre scuderie, tra l'altro. Era abbastanza chiaro, per cui è giustissimo quello che ha detto Franco. Quindi insomma, vedremo già da Jedda. Sì, Davide, ai 15 secondi poi andiamo in pubblicità. Secondo me qualche errorino l'hanno fatto anche i piloti in qualifica nell'ultimo giro. E se uno guarda la telemetria, le velocità, come diceva Fabrizio, sono inferiori perché loro hanno forzato la frenata. E l'hanno detto anche i piloti alla fine del giro. Sainz ha detto ho fatto un giro in Q2 tranquillo e ho fatto 29,5. Ho tirato e ho fatto 29,5. E grazie, se guadagni un decimo in ingresso, ma poi ne perdi uno e mezzo in uscita, nel globale vai più piano. Quindi è vero tutto quello che è stato detto, ma è anche vero che i due giri di Sainz e Leclerc nell'ultima parte di qualifica non sono stati perfetti. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci nuovamente in studio. Davide, tu avevi finito, sento se no, anche l'opinione di Fabrizio? Sì. Sì, sì, no, no, semplicemente che è vero che quando si lavora di centesimi e Verstappen comunque è stato davanti di poco, bisogna essere perfetti al 100% in ogni micro frazione della pista. Ed è normale per un pilota aver fatto un giro a livello medio e dire guarda che bel tempo che mi è venuto e non ho neanche spinto al massimo e poi esagerare. È un classico, tiri come un pazzo, pensi di aver fatto il giro della morte, in realtà hai sporcato 4-5 curve e in realtà il giro non è venuto perfetto come uno poteva aspettarsi. Quindi è normale che succeda, non è nulla di grave, però semplicemente bisogna cercare la perfezione in ogni situazione e chiunque, tutti nel team, devono fare la loro parte. Esatto, grazie. Fabrizio, sei d'accordo? Perché vedevo che anche tu accennavi... È corretto, è corretto e non l'ho detto prima perché non essendo io un pilota, non mi azzardo a giudicare quello che fanno i piloti in pista, però dalla telemetria si vede anche chiaramente come, soprattutto Leclerc, stacchi quei 3-4-5 metri dopo e si vede come dalla telemetria la velocità cali in un modo anomalo rispetto al giro di Q2 che era molto più consistente. Andrea, ti volevo chiedere, invece dall'altra parte della scuderia abbiamo un Carlo Sainz che ha condotto una gara magistrale, è stato molto corretto, secondo me anche molto leale, ma penso che abbia dimostrato la sua grande determinazione per questo 2024. Sì, è vero, è stato molto consistente tutto il weekend. Credo che lui sia stato un po' l'ago della bilancia, soprattutto ci abbia fatto vedere anche un po' il limite di questa macchina perché come sappiamo perfettamente, come delle volte ci fa vedere anche Perez nei confronti di Best Happen, abbiamo visto delle volte questa macchina molto competitiva. Lui è stato molto consistente in tutto il weekend e soprattutto nel primo settore riusciva a essere un pochino più bravo, aveva ottimizzato le prestazioni della sua macchina e aveva una differenza di gestione delle gomme, quelle medie, scusate, quelle soffici che poi erano le medie durante i test, ed è stato, secondo me era un po' più bravo nella gestione, partendo però un pochino più da lontano, come è stato poi nell'inizio della gara. Lui è partito più da lontano come tempi sul giro rispetto anche al suo compagno di squadra e questo grazie, poi dopo ci ha stato il problema con le clerche, quindi non si è potuto vedere niente di diverso. Però poi una volta che ha impostato il suo ritmo, una volta che ha impostato le sue temperature, è riuscito a essere abbastanza consistente. Io credo che ci abbia fatto vedere ancora qualche limite di questa macchina e voi, giustamente, Davide ha detto una cosa molto giusta, quel qualche metro in più che tu ti senti come pilota di spingere quando arriva la qualifica finale o quando il momento che dice ah va bene, ho spinto, giustamente avete detto vado di più e invece giro più piano. Ma questo succede anche quando la macchina ancora non te lo permette. Ciò vuol dire che secondo me c'è un margine di miglioramento o un margine di sviluppo da parte della Ferrari, ma anche da altre squadre lo sanno, da parte della Ferrari sotto questo punto di vista. E secondo me loro l'hanno già vista questa cosa e sanno già dove andare a lavorare. Perché quando il pilota se la sente così ti viene ad andare, mentre invece non succede quando tu guidi e dici ah cavolo, in Q2 ho già fatto il giro della morte, spero di poterlo ripetere. Non dici ho fatto e sono a posto e adesso vado, perché se non te la senti o la macchina non te lo permette, lo scopri solo quando vai a esplorare quell'area grigia, quell'area grigia che non ci sta più. Ciò vuol dire che qualcosina se la sentono ancora e magari non è ottimizzato, ma secondo me ci si può arrivare bene. Ci si può lavorare. Ci possono arrivare. E allora Franco io voglio chiederti anche a te un parere su Science, ma in funzione insomma della stagione che andrà ad affrontare. Noi siamo tornati oggi per la prima volta alla notizia vecchia del fatto che a fine stagione ci sarà un cambio di sedile e quindi Lewis Hamilton arriva al posto di Carlo Sainz. Carlo Sainz, che ho detto, secondo me è stato un corretto in tutto quello che ha fatto anche nel corpo a corpo con le clerche. Potrà essere una gestione però un po' complicata durante la stagione o secondo me non ci sarà? Lo diventerà inevitabilmente, è obbligatorio, succederà per forza perché hanno obiettivi completamente diversi. Mi piacerebbe dire nel rapporto di battaglia ruota a ruota fra i due, le clerche tirava una staccata e la macchina andava a destra. Sainz, quindi era a ruote inchiodate che fumava, Sainz è arrivato e ha tirato una staccata giusta e ha passato le clerche due volte senza prendere il minimo rischio. Quindi è più scena che abbiamo visto di fumate che sembravano in battaglia all'ultima curva, all'ok Corral, credimi non è stato così, erano dentro i limiti e si sono molto rispettati. Quindi questo è un segnale positivo come avvio di stagione. Invece potrà essere una stagione complicata nel momento che magari si dovrà giocare qualcosa la Ferrari, o no, o riusciranno a gestire... Le aspettative sono quelle di fare meglio dell'anno scorso. No, ma tra i due piloti. Eh, ma siccome la battaglia inizia quando la macchina è competitiva, quando sei disponibile, pronto a giocarti la vittoria, in quella situazione le ruvidità è probabile che vengano fuori. Chiedo anche a voi, Davide, mi parto da te, come sarà secondo te questa gestione tra i due piloti in Ferrari? Beh, innanzitutto ti dico che a me Sainz è piaciuto molto come atteggiamento. Da subito, da dopo, diciamo, che è stato avvisato che non avrebbe corso più per Ferrari. A volte il linguaggio del corpo dice molto di più di quanto magari dicono le parole. E Sainz lo guardi negli occhi e lo vedi molto tranquillo, molto sicuro di sé. Da un certo punto di vista quasi liberato. Lui dentro di sé sarà sicuramente corretto, all'interno, diciamo, della gestione della rivalità in pista con Leclerc, ma non lascerà niente. Quindi quando, come diceva Franco, la macchina sarà pronta per vincere, lui proverà a vincere. Non starà troppo a guardare se Leclerc è più avanti o più indietro in classifica. Dal mio punto di vista, però, sarà, come ha sempre dimostrato, serio e corretto. Quindi non mi aspetto particolari problemi o scorrettezze tra di loro. Lui comunque sta dimostrando di essere un uomo, un uomo forte. E secondo me chi lo porterà a casa, a me, io l'ho detto subito, a me dispiace che in Formula 1 non si possano avere tre macchine. Contentissimo e secondo me la scelta di Hamilton è molto mirata, però perdere Sainz non è una gran bella cosa. Chi lo prenderà farà un bel acquisto. Beh, io sono contenta che arrivi a Hamilton, però. Senza nulla togliere a Sainz, però un sette volte campione del mondo può, secondo me, dare il proprio apporto in un team, soprattutto a fianco di Leclerc. Fabrizio, la tua opinione su questa gestione della stagione 2024? Anche poi, magari, quando si andrà oltre la metà del campionato, quindi magari anche certi aggiornamenti, non lo so. Corretto, è corretto. Infatti i problemi, secondo me, se ci saranno, ci saranno un momento in cui la macchina sarà al top della performance e ci sarà quella situazione dove entrambi i piloti saranno in una situazione di poter potenzialmente vincere. Poi, se Leclerc sarà avanti, il problema non si pone. Il problema si pone quando le performance dei piloti si equivalgono in qualche modo. Io spero, ma non credo sia questo il caso, di non rivedere qualcosa di simile a Monza quando Raikkonen, ormai, sapendo già di dover abbandonare Ferrari, cominciò a creare un po' di squilibri in pista, parlo. Ma Sainz mi sembra un pochino più focalizzato sull'ottenere il risultato finale invece che sulla performance in quanto tale. Mi sembra un pochino più anche maturo. Per cui sono assolutamente d'accordo. È un ottimo pilota, dico purtroppo perché non sarà più in Ferrari. Certo, con tutti i meccanismi che poi si incastrano. La gara che ha fatto è stata una gara di intelligenza, di maturità. Sapeva cosa poteva ottenere e l'ha ottenuto nel modo più semplice e veloce possibile. Poi da qui al resto del campionato ci saranno n altre situazioni e n altre difficoltà. Vedremo come si svilupperà poi tutta la faccenda. Tu Andrea, al posto di Sainz, come gestiresti la tua stagione? Sarai incazzato come una vipera. Sarei assolutamente arrabbiato come una vipera e ovviamente farei giustamente l'uomo, farei il mio, però quando sono in pista o forse ancora più di prima cercherei di dimostrare quanto possa valere. Ed è quello che assolutamente farà. Ve lo posso garantire. Questo non mollerà niente e se voi avete fatto caso, nel primo giorno di test è stato così. Sia in Bahrain, sia nel pre-test, che c'è in pre-gara, che è nel gara. E io sono sicuro che non mollerà una virgola finché glielo potrà permettere, finché anche le sue possibilità gli daranno possibilità di farlo. ma io credo che dimostrerà ancora di più. Io spero, io ho sentito delle voci, poi non so se sono vere o meno, ma che vanno oltre, secondo me, il discorso audio o altri discorsi. Secondo me, lui aspira a qualcosa di molto più grosso da quello che ho visto. E secondo me è una parte... Non ti puoi sbilanciare. No, 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 ma io credo che Franco possa sapere meglio di me, ma sappiamo perfettamente come il papà di Science sia molto pesante, sia una persona estremamente efficace e abbia un peso specifico importante anche all'interno del paddock, essendo un vero signore, comportandosi davvero uomo di grande esperienza come lui è. Ed è sponsorizzato Red Bull. Ah, ecco Red Bull. L'hai detto tu, non l'ho detto io. Ok, qui Red Bull. Quindi Franco, manca solo il tuo avvallo, visto che ti hanno chiamato in causa. No, ma ci sono le foto che Carlos parlava nel paddock con il... si era seduto al tavolo dell'hospitality Red Bull. Ma con chi ha parlato? Con Helmut? Con Marco, con Christian Horner. No, c'erano tutti. È ovvio che adesso... Quindi non a caso il papà di Verstappen stava parlando con Toto Wolff? No, lì è una reazione diversa, ma ne parliamo dopo di quello, perché merita una specifica attenzione. No, io credo che Carlos si tenga in questo momento tutte le porte aperte. Aston Martin mi sembra la prima opzione. c'è un posto comunque alla Mercedes, c'è un posto alla Red Bull. Quindi è evidente che lo scenario è aperto e in funzione di tutto quello che succede in questa Formula 1, che mi sembra che stia facendo esplodere bombe a mano praticamente ogni mezz'ora, dobbiamo solo aspettare chi rimarrà in piedi. Quindi fa bene Papa Carlos a tessere la sua tela e aspettare senza prendere decisioni troppo in fretta. Allora, le bombe a mano ci arriviamo tra pochissimo. Intanto parliamo di chi ha vinto, di questa Red Bull, completamente diversa da quella della passata stagione. Un altro gioiello progettato dal genio che è Adrian Newey, ma anche qui accentrato. Quindi una macchina velocissima con un campione, come ha detto Toto Wolff, che è di un'altra galassia, che è Max Verstappen. Io ti chiedo, l'avevamo già un po' anticipato in apertura, siamo davanti a un altro 2023, quindi sarà un 2023 bis o c'è del margine su cui lavorare e poter magari anche riuscire a portare a casa, non dico in Ferrari, in generale, delle vittorie per altri team? No, guarda, i Gran Premi sono 24, quindi avrebbe anche, da un certo punto di vista, la possibilità di battere il clamoroso record dello scorso anno. Io mi auguro ovviamente che non sia così e credo che ci siano più macchine che in una condizione dove magari la Red Bull non è in forma al 100%, potrebbero provare il colpo. La Ferrari in primis, la Mercedes, devo dire, rispetto al 14, il bidone degli ultimi due anni, ha certamente fatto un grosso salto in avanti, e poi aspetto anche la McLaren, perché la McLaren è una macchina con tante soluzioni tecniche che ancora non si sono ben viste e valutate, hanno spostato il braccio dello sterzo dalla parte anteriore ad andare dietro il triangolo, hanno abbassato i pesi, hanno spostato verso la distribuzione migliore dei pesi, quindi un lavoro molto finalizzato a poi ottenere il miglior bilanciamento che magari vedremo non al debutto in questa prima fase, ma in una seconda. Poi se lo dice Andrea Stella che il Bari non era la loro gara, ci possiamo credere, visto che comunque l'onestà è lui proprio in persona. Vedremo uno scenario decisamente diverso. Io ci tengo a dire una cosa, che sono rimasto colpito dalla capacità on-off di Max Verstappen, perché proviamo a trasferire tutto il caos che c'è nel mondo Red Bull a Maranello all'improvviso in Ferrari. Cosa avrebbero avuto in testa Charles Leclerc piuttosto che Carlos Sainz? condizionamenti da tutte le parti e non possiamo dire che questa è una squadra inglese di approccio. Cioè il bombardamento, lo tsunami è fortissimo, quello che stanno vivendo loro è incredibile. E questo ragazzo si è isolato dove una delle parti in causa che sta creando un grandissimo casino è suo padre. Quindi è in un ruolo che non lo tocca direttamente, però rischia di andarlo a toccare molto profondamente a seconda di che strade si prenderà all'interno del team. E non mi stupirei nel vedere un Max che magari prende le distanze da suo padre. Ah, addirittura. Dopo ne parliamo, insomma, cerchiamo di fare un quadro della situazione attuale di Red Bull. Intanto, Fabrizio, anche te, una tua opinione su quello che è stato Max e la Red Bull di questa nuova stagione? Anche guardando Perez che alla fine mi sembra un po' più a suo agio su questo monoposto, ha condotto una gara direi anche intelligente, ha gestito bene i pneumatici negli ultimi giri con Carlos tenendola a distanza. Insomma, un Perez che fa quello che gli chiede la Red Bull in questo momento arrivando secondo. Sì, per quello che riguarda la Red Bull esistono secondo me due mondi, il mondo Max e il mondo non Max tutto ciò che appartiene a Max e tutto ciò che non appartiene a Max e lui, Max, ha detto con questa macchina faccio quello che voglio siamo una cosa sola per cui i risultati si sono visti anche perché poi come dicevo prima secondo me quell'1.32 che ha dato un secondo e 8 un secondo e 7 a tutti gli altri su quel giro secondo me potrebbe essere un buon punto di riferimento per sapere quali sono le prestazioni reali della Red Bull mentre Perez diciamo che se continua così ha trovato il miglior modo per arrivare al rinnovo perché lui gli viene chiesto di arrivare secondo e non c'è più nemmeno bisogno di difendere Max perché Max se ne va per conto suo per cui sta facendo il suo l'importante da punto di vista gioco di squadra di Red Bull è fare in modo che le cose succedano secondo i loro piani per cui Perez in questo momento sta interpretando il suo ruolo nel migliore dei modi certo Davide quanto ha gestito Max secondo te abbiamo l'ha appena detto Fabrizio un giro il giro veloce con un tempo strepitoso poi abbiamo visto che andava 3-4 secondi più lento quanto ne ha ancora? un po' ne ha ma non prendiamo il giro super che ha fatto Verstappen come il gap reale che c'è dalle altre macchine perché lui comunque quando ha fatto il giro veloce a parte che aveva la gomma nuova aveva diversi giri precedenti lenti e erano giri che ricaricavano la batteria lui ha sparato un giro dove c'era il potenziale totale della macchina che non è esattamente quello che gli altri hanno in quel momento quindi il gap vero della macchina tu lo vedi in qualifica perché comunque tutti danno tutto e poi lui ha un extra gap suo personale questo è il mio punto di vista lui in questo momento sta facendo un lavoro che gli altri non riescono a fare per mille ragioni anche l'auto nei primi giri lui fa la differenza nei primi giri lui in tre curve aveva già dato otto decimi a Leclerc in quel momento quindi il suo mestiere che lo fa super top in alcune parti della gara lui è perfetto sempre e si vede in determinate sezioni di gara ha gestito sicuramente da metà gara in poi non ha più tirato come un matto ma non c'è un secondo e otto tra lui e gli altri è assolutamente Andrea secondo te infatti volevo aggiungere proprio questo per rafforzare ciò che diceva Davide non solo era con gomme nuove ma era con gomme nuove rosse che in quel momento ce le aveva solo lui nuove che venivano che le aveva tenute rosse nuove ce le aveva solo lui conservatoi nell'ultima parte di gara quindi scarichi e la seconda cosa giustamente Davide ha detto una roba giustissima che è quella del fatto dell'inizio della gara perché lui riesce a fare dare quello strappo al primo giro ai primi due tre giri che si toglie naturalmente fuori dalla possibilità di usare il poi il DRS per gli altri che ricordiamo da quest'anno già alla fine del primo giro si può utilizzare se non ci sono incidenti ma non solo lui riesce a fare questa operazione senza strappare le gomme senza rovinarle perché anche gli altri lo possono fare ma il problema è che quando lo fai fai una roba del genere col pieno e all'inizio della gara rischi un mondo di distruggere la gomma che dopo ti devi portare avanti per tutto il primo stand di gara un problema poi sulla gomma perché nella prima parte di gara è quella dove nei primi due tre giri è quella dove le puoi ammazzare facilissimamente specialmente poi se sono quelle quelle più soft le soft che con cui tutti sono partiti e questa veramente ha la forza proprio di quello che dice Davide la vera la vera forza sua e la macchina evidentemente glielo permette ma lui riesce a sfruttare tantissimo questa cosa grazie Andrea è impressionante abbiamo pochi secondi a proposito di questo nel caso in cui le carri quel Q2 fosse stato il Q3 e avesse ottenuto la pole non ha la capacità come Max cioè non ha la macchina per poter dare questo strappo e andare via o sì? Io sono sincero quello che hanno detto sia Davide che Andrea lo condivido però ci aggiungo come analisi che Leclerc non è che gli è venuto il problema dopo pronti via ce l'aveva subito l'ha avuto subito quindi si è trovato Max nella condizione ideale di andare via perché il terzo era lontano e di fatto Leclerc ha un po' fatto da tappo questo dobbiamo riconoscerlo perché se no non facciamo la fotografia completa e lui da volpone che è ha sfruttato la condizione ovviamente non poteva sapere che dietro Leclerc aveva subito il problema però abbiamo visto Russell come quando ha attaccato la Ferrari e anche lì abbiamo visto Leclerc che non ha difeso la posizione si è tenuto lontano da non andargli addosso avevamo visto un cambio di passo della Mercedes però la Mercedes non è la Red Bull e il distacco si era già aperto lì ha una capacità del saper fiutare che cosa bisogna fare che è straordinario andiamo devo andare in pubblicità certo ci vediamo tra pochissimo Rieccoci nuovamente in studio e concludiamo il discorso Red Bull parlando del caso Orne proprio per vedere quali scenari poi ci aspetta da qui a pochi giorni perché insomma alla fine secondo me si svilupperà abbastanza velocemente allora il tutto nasce faccio velocemente un recap il 6 di febbraio quando una dipendente denuncia all'interno del team per comportamenti inappropriati il suo team principal che è Chris Orner il 29 di febbraio quindi quando tutti i team erano già in Bahrain la Red Bull manda un comunicato dicendo che non non sussiste quindi non accetta le accuse le accuse vengono respinte ma il giorno dopo Franco poi mi dici tu se sbaglio una mail anonima arriva a un centinaio di persone tra giornalisti team principal di tutte le scuderie di Formula 1 i maggiori vertici di Formula 1 Liberti Media Stefano Domenicali Ben Sulla IEM il presidente della FIA insomma a tutti una mail dove sono contenuti degli screenshot di chat e 79 foto compromettenti e Chris Orner viene sentito dai giornalisti lui non rilascia dichiarazioni va in riunione con Stefano Domenicali il presidente della FIA Ben Sulla IEM e sembra un po' tutto tacere fino a che finito il gran premio il papà di Verstappen ecco perché dici che probabilmente poi Max Verstappen si dissocierà da suo padre al Daily Mail dichiara che lui fa la vittima in realtà non è e con lui che sta facendo esplodere il team quindi come se dovesse andarsene cioè gli sta dicendo che se ne deve andare perché non è lui la vittima anzi a cosa ci troviamo davanti? Ha una guerra politica all'interno della Red Bull una guerra politica che non riguarda solo i soci che compongono il team di Formula 1 quindi Red Bull Racing ma una guerra che è arrivata ai vertici della seconda generazione di chi la Red Bull l'ha inventata quindi è interna la guerra comunque anche questa mail secondo te è stata mandata da qualcuno dentro? Allora la guerra è violentissima i documenti sono ovviamente frutto di quell'indagine che l'avvocato ha portato avanti quindi è in un giro ristrettissimo del mondo Red Bull è evidente che questa blackmail ha una manina che magari è un hacker esterno ma alla fine ha un mandante che a mio parere prima o poi verrà fuori la cosa anomala sai qual è Veronique che il socio che ha il 51% del gruppo Red Bull thailandese si è presentato in Bahrain ed era con Christian Horner e la moglie di Christian Jerry Hallyway quindi la visione era quella questo è l'orientamento mio che sono il socio di maggioranza noi abbiamo sempre vissuto nel leggere la Red Bull come Matt Schitt's padre Christian Horner sì come team principal ma Helmut Marko come espressione della parte austriaca ecco pensare che il 49% si metta a cuccia dicendo a noi va bene così è impensabile e diventa poi molto chiaro il fatto che un signore come Joseph Verstappen abbia volutamente incontrato Toto Wolff durante il weekend di Gran Premio si sono visti a cena al Four Seasons un hotel di Manama quindi fuori dall'autodromo per parlare di un eventuale passaggio di Max alla Mercedes è evidente che è una clamorosa provocazione Max ha un contratto che arriva al 28 25 25 26 27 sì ma l'escape di 4 anni ma che cifra è cioè non credo che la Mercedes sia pronta io parlo dei tedeschi della Mercedes pronta a investire una cifra disumana per prendere Joss anzi Max il padre è evidente che se uno può ci prova e quindi la trattativa di mercato è aperta e qui rischia di sterminare un mercato perché se Max dovesse finire alla Mercedes è evidente che il signor Leclerc comincia a chiedere signori Red Bull vi serve un top driver mi libero dalla Ferrari quindi comincerebbe una rottura di contratti colossale per tutti quanti ti chiedo rimarrà il giudizio rimarrà all'interno di Red Bull perché comunque è stato palesato a tutto il mondo motorsport allora primo il modo in cui è stato palesato è brutto è ravigliacco non è il modo in cui ci si deve comportare però mi viene da pensare che la vera vittima non sia vittima a sto punto seconda cosa si parla tanto di un comportamento inappropriato ma la relazione fra le due persone c'era ed era abbastanza di lunga durata quindi c'era un consenso certo poi nel momento in cui si rompe la relazione e la storia finisce oggi con il me too diventa molto difficile riuscire senza avere le carte chi ha ragione come il fatto che ci fossero x fotografie compromettenti per me non vuol dire niente perché se sono le fotografie scaricate dal telefonino di quando stavano insieme sono solo a fattacci loro non ci riguarda allora è un attimo tirare e creare un movimento di opinione che va in una direzione anziché quell'altra e lì questo mondo di oggi della Formula 1 devo dirti non mi piace cioè siamo arrivati a una soglia che parlano i vertici delle aziende ormai non parliamo più di team sono aziende che si fanno la guerra da fuori la McLaren piuttosto che la Mercedes con Zac Brown o Toto Wolf provano visto che in pista non riescono a rovinare a rompere il muro Red Bull ci provano per una via che è un'altra ecco questo modo sinceramente non mi piace grazie Franco io Fabrizio vengo da te perché a questo ci aggiungo anche la notizia di ieri sera che il presidente della federazione internazionale Ben Suleyem è sotto inchiesta per aver interferito su un risultato di un gran premio naturalmente ci riferiamo al gran premio di Arabia Saudita del 2023 quindi lo stesso gran premio che tra due giorni i piloti affronteranno con le prime prove libere dove praticamente avrebbe imposto ai commissari di cancellare la penalità dei 5 secondi di Alonso che poi è arrivato terzo che succede? Allora mi permetti prima di dire un paio di parole sulla situazione Horner perché vorrei dire un po' come la penso nel senso esiste una cosa bellissima bruttissima che si chiama internet e purtroppo quel materiale su Horner è arrivato è stato resto di pubblico dominio e volente o non volente prima o poi ti capita davanti gli occhi anche se tu non vuoi vederlo e qualcosa mi è capitato di vedere e secondo me c'è il nulla secondo me lì c'è il nulla lì c'è una relazione extraconiugale consensiente e basta non c'è nient'altro per cui è evidente che secondo me viene utilizzato come arma nei confronti di Horner ma lì non c'è una molestia lì non c'è nulla e questo secondo me è anche corroborato dal fatto che non è sfociato in un'inchiesta giudiziaria è rimasto solo un procedimento interno altrimenti ci dovrebbe essere un'inchiesta giudiziaria e anzi ti dico di più io ci ravvedo gli estremi per una diffamazione nei confronti di Horner perché lì non c'è il nulla quella rimane una situazione che va gestita all'interno dell'azienda Red Bull e all'interno della famiglia Horner perché poi è evidente che insomma c'è stato un tradimento conclamato questo è evidente Fabrizio non abbiamo ancora vissuto tutto vedrai che ci sono altri retroscena di questa sporca vicenda che verranno ulteriormente fuori e avranno ulteriori sconquassi nel sistema Red Bull è chiaro perché se vogliamo aggiungerci un pezzettino per me era anomalo il fatto che la Ford dagli Stati Uniti che diventerà partner di motore nel 2026 dicesse noi vogliamo pulizia e chiarezza c'è qualcosa che non quadra la Ford l'ha trovata Horner quindi l'attacco a Horner non arriva dalla Ford però il dubbio molto Ford per giocare con le parole è che in realtà il motore che sta nascendo a Milton Keynes non è così straordinario allora trovare la scusa per rompere il contratto e venire via diventa una grande opportunità e questo gli americani devo dire sono non bravi stanno cavalcando quell'onda e allora andiamo a vedere che si intrecciano scusami se ti ho interrotto Fabrizio ma si intrecciano altri fattori cioè è business in business che va ad avvilupparsi con la parte tecnica e con la parte sportiva ed è veramente molto molto difficile esprimere un giudizio che non sia condizionato dalla conoscenza di uno piuttosto che dell'altro all'interno del padro ma tu lo vedi in uscita Horner secondo te? per come sta tenendo botta in maniera così terribilmente dura sapendo di avere il supporto della maggioranza del team Red Bull per ora sta tenendo terribilmente in modo serio la barra ha portato la moglie nel padro che quindi è quella che insomma è quella che nel mondo fa la più brutta figura mano nella mano quindi c'è proprio la voglia di dire non mi demolite attenzione e fra le voci e poi chiudo c'è anche che Horner tutto quello che è successo nel budget cup della Red Bull lo conosce a memoria e se mai gli capitasse di uno spifferino ecco che austriaci thailandesi esplodono tutti quanti Fabrizio non so se avevi finito sì volevo ovviamente sono d'accordissimo con quello che ha detto Franco io parlavo del fatto in quanto tale ma è evidente che dietro c'è un mare uno tsunami che sta arrivando riguardo il presidente della FIA si raddoppia come se fosse l'asfera doppia in questo caso si raddoppia nel senso che le notizie a suo sfavore sembrano essere due e sembra che abbia anche voluto interferire non solo con il gran premio dello scorso anno di Jedda ma anche con il regolare svolgimento del gran premio di Las Vegas nel 2023 dico sembra perché queste sono notizie sono uscite su BBC Sport quindi sono testata più che autorevole però ovviamente in questo momento si parla solo di voci non confermate certo se fosse confermato è ufficialmente sotto indagine questo è un fatto sull'Arabia Saudita è ufficiale che sia sotto inchiesta quindi quella è comprovata cioè non è un credo ecco ecco la domanda che mi faccio è perché io non riesco ad immaginare uno scenario tale per cui si debba mettere in dubbio diciamo la presenza del presidente della FIA ancora non sono riuscito a individuare uno scenario ma perché poi lui deve intervenire per regalare un terzo posto ad Alonso Davide esatto ah quello che fa il presidente perché non ne ho la più palla in idea io volevo vogliamo giustizia ma la stessa lo stesso organo che deve un po' così controllare guarda in questi casi qua si dice che il culito c'ha la lebra io volevo solo aggiungere una cosa a tutto ciò che è stato detto che condivido pienamente al 100% proprio collegato a quello che diceva adesso Franco relativo al fatto che la Ford potrebbe cavalcare questa situazione ambigua per rompere il contratto allora a questo punto ti dico anche Joss sta facendo la stessa cosa perché se la Ford fa un motoraccio e fa un motoraccio 26, 27, 28 cioè gli ultimi tre anni di contratto Max si ritrova una macchinaccia per tre anni se invece si sgancia prima perché non vuole stare all'interno di questa situazione ambigua va a prendere una macchina che magari è sulla carta più competitiva ripeto qua sono tutti svegli e tutti furbi e sono pronti a usare qualunque scusa e farla diventare un caso di stato per portare il proprio interesse personale quindi e poi Joss attenzione esatto e qua mi fermo grazie Davide Andrea vuoi aggiungere qualcosa sulla situazione? vi ripeto avete detto tutte le cose giustissime per cui qualsiasi cosa specialmente dal lato pilota diventa abbastanza difficile da commentare oltre perché è veramente tutto giusto l'unica cosa che posso dire avete detto ma perché Ben Suleen posso aver fatto qualche cosa in Arabia Saudita però Alonso con Alonso mi viene da pensare due cose facilmente qual è lo sponsor della Aston Martin maggiore mi pare che sia uno sponsor arabo comunque di quelle aree lì il maggior sponsor mi viene da pensare da dove venga anche per per supportare tante cose o forse o forse da presidente semplicemente è inutile senza andare a stogliere tante illazioni ha visto una giustizia e da presidente ha detto ma come qui c'è un'ingiustizia in atto e io non la voglio non la passo non la sta facendo cioè ha fatto pressione per far capire signore state sbagliando o come come se un arbitro dà un rigore che non c'è e il capo dell'abito dice telefono e dice oh lo stai facendo è molto chiaro che qui c'è un problema può essere anche questo quindi tutto può essere o tutto può essere niente per cui ripeto noi facciamo solo le azioni possiamo dire tanto e essere valido assolutamente il nulla beh è una bella chiave di lettura a me piace poter pensare che possa aver assistito a una cosa che non gli andasse bene perché non era giusto poi magari lo devi fare sempre no ma no il signor Ben Sulayem deve dirigere la federazione non deve fare il giudice al collegio dei commissari sportivi quella è assolutamente un'ingerenza inaccettabile io sono indignato se è vero che il presidente della federazione è andato nel nel dai commissari ma assolutamente ma stiamo scherzando ma dove andiamo a finire allora la certezza del diritto non esiste più no è una cosa inaccettabile se è vera quindi la cosa vera è che è sotto inchiesta ma non si sa se sia vero questo che è stato detto no voglio dire chi l'ha messo sotto inchiesta il codice il gruppo etico della federazione non Babbo Natale quindi è un qualcosa che è nato all'interno non ti dimenticare che in ogni ruolo nel mondo di chi ha occupato il regolamento finanziario a livello tecnico team goss a livello sportivo stanno andando via tutti i collaboratori non c'è uno che sopporti l'idea di lavorare ancora con ben sulla Yen quindi c'è un problema di gestione interno sembrava che tendesse un po' a esagerare in certe situazioni che fosse un po' un'esuberanza di carattere ma qui stiamo andando decisamente oltre quelli che sono i vincoli che chiunque si può concedere alla teoria che volesse favorire Aramco Andrea non sono troppo d'accordo per una ragione molto semplice che noi occidentali tendiamo a mettere araba per arabo ma in realtà l'Arabia Saudita non va molto d'accordo con da dove arriva ben sulla Yen quindi sono certamente mondi separati allora volevo ritornare un po' al Gran Premio grazie Franco al Gran Premio Davide chiedendo a te velocemente il discorso Mercedes allora non grandi risultati da una parte il quinto posto di Russell che è sotto pressione l'errorino glielo mette sempre e il weekend un po' sottotono o molto sottotono per Lewis Hamilton come ti sembra però la macchina Tottenham parla di una macchina a podio ti ha però deluso ti aspettavi qualcosina di più sicuramente meglio della versione precedente può essere una macchina sviluppabile che può portare prestazioni bisogna vedere se sono vere le dichiarazioni non sono scuse delle problematiche avute durante il Gran Premio che entrambe le macchine hanno avuto problemi alla power unit di temperature e di utilizzo della batteria di Hamilton quindi perdeva potenza e la rottura del sedile di Hamilton se consideriamo come rottura non una rottura ma un sedimento strutturale interno del sedile che lo fa muovere all'interno dell'abitacolo è una difficoltà di guida molto molto importante su una formula 1 o in generale su un formula un prototipo perché il pilota deve essere inchiodato alla vettura al 100% se il sedile va a destra può crearti delle difficoltà e sicuramente ti fa perdere tempo detto questo non lo so a me sono sembrate più delle scuse che non dei veri problemi vedremo il prossimo Gran Premio se salteranno fuori dopo le prove libere l'FP2 che erano prime e seconde me l'aspettavo sicuramente in lotta per il podio in maniera pulita non è successo aspettiamo il prossimo Gran Premio ma anche McLaren anche McLaren però per lì Andrea Stella l'aveva annunciato il fatto che avrebbero avuto un po' di problemi su questo tracciato e Franco volevi aggiungere qualcosa sì volevo aggiungere che hanno preso il rischio di voler andare in caccia della Ferrari hanno chiuso la carrozzeria per essere più efficienti dal punto di vista aerodinamico e cosa è successo che arrivano al primo pit stop due secondi di sosta sale la temperatura del motore come normale che sia e essendo più chiusi non sono più riusciti ad abbassare parlo di Russell la temperatura di gestione quindi colpa loro cioè se la sono andati a cercare hanno preso un rischio e hanno pagato il rischio parlare di mezzo secondo mi sembra esagerato ma è la misura per far credere intorno all'ambiente Mercedes che la Ferrari era battibile secondo me non era prendibile grazie Franco qualche informazione visto che già un po' la accennava prima Andrea al fatto che si possa già utilizzare il DRS dopo il primo giro di gara i Gran Premio abbiamo detto che sono 24 le Sprint saranno 6 abbiamo la grafica appena la regia è pronta cambia un po' il weekend della Sprint la Sprint Shootout ossia la qualifica della Sprint questi sono gli orari per il prossimo Gran Premio invece ci sono 6 Sprint la prima è in Australia mi sembra è la prima Sprint il weekend cambia quindi le qualifiche il venerdì pomeriggio sabato mattina la Sprint Race e poi le qualifiche del Gran Premio sabato pomeriggio e la gara la domenica e qui per fortuna ci avranno ascoltato non lo so ci saranno due Parc Fermé quindi uno per la Sprint che si chiude prima della Sprint Shootout per poi andare fino alle verifiche della Sprint Race e poi ci sarà un altro parco chiuso proprio per la gara quindi qualifica e gara meno male sì io non capisco fare una una qualifica dopo una gara già disputata della mattina sì per me mentalmente per un pilota riprogrammare tutto quello che è l'approccio alla macchina senza poi poter nemmeno fare un giro cambiando all'interno del parco chiuso riaperto la vedo una condizione strana vediamo che succede vedremo come andrà a finire hanno tolto vabbè quella cosa che avevamo fatto l'anno scorso delle tre gomme imposte per il Q1 Q2 Q3 cioè l'Ata non c'è più ma ci sarà la possibilità della terza auto con quali condizioni cosa significa andremo a scoprire andremo a scoprire non si sa ancora non è molto chiaro ultima cosa andiamo a vedere il gran premio di questa settimana si corre in Arabia Saudita un circuito semi permanente un cittadino quello più veloce più lungo di tutto il mondiale di Formula 1 costruito da lui dall'architetto Tilk tre vincitori differenti in queste prime tre edizioni prima Hamilton poi Verstappen l'anno scorso vinse Perez quali sono Davide un po' le caratteristiche di questo tracciato abbastanza velocemente se riesci spaventosamente veloce una delle piste più veloci che ci sia tutto il globo terraqueo la grande differenza rispetto a tante altre piste che c'è il muro di cinta a filo pista e quindi rimane una delle piste secondo me in assoluto più pericolose perché nel budello quando sei all'interno del budello e praticamente sei a gas completamente aperto in alcuni casi alleggerisci un pelo sei cieco cioè se qualcosa succede davanti e viene fuori un disastro io è dal primo anno che lo fanno che tutte le volte che c'è il Gran Premio un po' di timori ce li ho devo essere sincero dal punto di vista guida invece deve essere una goduria totale perché andare così forte all'interno di un budello del genere credo che sia una sensazione pazzesca e quindi e parlando tecnicamente serve una grandissima velocità e anche quella giusta aerodinamica per il rapido cambio di direzione nelle chicane veloci perché le chicane non sono lente sono molto veloci a parte l'ultima curva è la prima che sono un pochino più angolate e lì serve una aerodinamica giusta per farti girare rapido ma che non ti faccia più perdere velocità grazie Davide Andrea vuoi aggiungere qualcosa a quello che ha detto Davide sul tracciato? sono assolutamente d'accordo ripeto che la velocità massima come ha detto lui giusto sarà un elemento molto importante quindi la distribuzione del motore termico della potenza termica della potenza elettrica sarà fondamentale come ci ha fatto vedere l'anno scorso la Red Bull Principe sotto questo punto di vista ma abbiamo un'altra cosa che speriamo di confermare la cosa che abbiamo visto in Bahrain cioè l'estrema compattezza di tutto di tutta la griglia dove in pochissimi decimi era dentro praticamente tutti quanti quindi il piccolo errore ovviamente escluso Verstappen ma anche nelle prove libere è in gara e in qualifica visto che anche lui che se lo metteva insieme tutto quanto in modo perfetto anche lui aveva poteva avere qualche problemino in realtà gli altri c'è da lui in poi ce ne hanno di più perché ti viene un problemino di un decimo non lo paghi in semplicemente con una posizione o due ma lo paghi magari con 5 o 6 posizioni certo magari non rientrando nel Q3 grazie Andrea allora facciamo vedere anche la Pirelli porterà una via di mezzo per le gomme per quanto riguarda i pneumatici la dura sarà la C2 la ecco la vedete lì la media la C3 e la morbida la C4 gli orari li abbiamo presi da te Franco da motorsport.com andiamo a vedere le qualifiche e saranno il venerdì mi raccomando alle ore 18 e il sabato la gara stesso orario ore 18 un pronostico velocemente Fabrizio parti tu ma sarà importante vedere chi riuscirà a portare più velocità e in questo credo che la Ferrari potrà dimostrare di aver recuperato rispetto allo scorso anno perché la Ferrari non solo a velocità ma riesce anche a portare molta velocità nelle curve veloci e a Jed ci sono per cui mi aspetto diciamo Verstappen andiamo conservativi Verstappen però vedo Leclerc e Sainz più avvantaggiati rispetto a Perez Andrea io la vedo sto conservativo anch'io perché Verstappen non posso dire che non lo sia secondo vedo Leclerc terzo potrebbe esserci un Sainz ma è una lotta con proprio per le chicane molto veloci e lì ci vuole il pelo un pelo che forse delle volte se non senti perfettamente la macchina il piede con la testa tieni giù ma il piede ti viene su quindi terzo Hamilton no chi no vai che dobbiamo chi Russell ah Russell ok Davide non avevo capito scusa io non te lo faccio il pronostico la previsione perché su 23 l'anno scorso ne ho sbagliati 24 quindi niente quindi niente però ti dico che io vedo molto molto competitiva la McLaren McLaren e Franco a Max e quindi e vedo la McLaren molto meglio rispetto a Beren grazie di essere stati con noi a tutti gli ospiti grazie Andrea Fabrizio Davide grazie a te Franco grazie a tutti voi ci vediamo settimana prossima martedì prossimo ciao